Amici, ciao a tutti! Oggi vi presento il materasso risveglio di Manifattura Falomo. È un materasso che comincia già ad avere delle caratteristiche interessanti all'interno dei materassi a molle. È un materasso con molleggio bonnel e una superficie molto trasparente e confortevole. È un materasso accogliente. Il tessuto è un tessuto stretch, molto elastico, che serve appunto per seguire di più le forme del corpo e avere una superficie più trasparente verso l'interno. Lana Merinos da una parte e cotone dall'altra per avere un microclima invernale caldo e asciutto e un lato estivo fresco e confortevole. Non so se si può apprezzare dalla ripresa e la superficie damascata, estremamente raffinata. La maniglia e la lavorazione sul fianco. Materasso con maniglia molto robusta e fascia coordinata in colore diverso dalla superficie. Molleggio bonnel, un molleggio sicuro. È un molleggio estremamente affidabile nel tempo, molto duraturo ed è un molleggio anche molto silenzioso. Venite a provare il materasso risveglio da Burani Materassi. Siamo in via Aristotele 93 a Reggio Emilia. Ciao a tutti.